Maria Teresa Bocca oggi alla libreria Feltrinelli, interpreta per tutti noi Leonora Duse con un filo d'anima. Ciao Maria Teresa. Ciao, ciao. Com'è la tua emozione interpretare, diciamo, questo monologo? Lo possiamo chiamare un monologo? Lo possiamo chiamare anche monologo, sì, è una conferenza monologo. Sono, sì, emozionata per due motivi. Il primo perché do voce alla Divina, la nostra concittadina illustre, che dovremmo ricordare più spesso e perché parlo di lei in prima persona mettendo in luce la sua anima, il filo d'anima che aveva e che la teneva legata alla vita. Emozionata perché indosso il suo abito di scena originale e quindi anche questo contribuisce a creare un'atmosfera particolare. Ti sei preparata molto in tutte le sue sfumature. Sì, ho letto moltissimo, ho vissuto interiormente la sua esperienza di vita, soprattutto come madre, come dirò, perché è un aspetto poco conosciuto. Lei, femme fatale del teatro italiano, era una madre tenerissima, dolente e meritava che ci fosse una voce. Io spero di essere all'altezza innanzitutto, lo dirà poi il pubblico che ascolterà nel dare vita a Eleonora. Grazie, grazie Maria Teresa. Grazie a te.